Buonasera, benvenuti in questa puntata di chi vuole essere miliardario Ho finito Ho finito, continua Inversione Ieme Inversione Ieme Ma veramente no Comunque, partiamo, questa è la domanda da un miliardo di lire Più enfasi con una Questa è la clorata per un miliardo di lire Questa è la domanda da Un miliardo di lire Ok, ora va meglio Come si chiama la birmana premio Nobel per la pace Nel 1991 A. San Yu B. Ne Win C. Ludu Ula K. Aung San Suu Kyi Ok, puoi ripetere per favore Altre volte Ripetiamo le risposte o anche la domanda Tutto, tutto Pure io Tu sei muto Per Per Un miliardo di lire Come si chiama la birmana premio Nobel per la pace nel 1991 A. San Yu B. Ne Win C. Ludu Ula D. Aung San Suu Kyi È il momento di scegliere Per me è la D La D di Aung San Suu Kyi La D di Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi Sì La accendi La accendiamo Sì Com'era è vero quella Com'era è vero No è giusta Ha vinto il miliardo 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 Che culo No, la sapevo, vero la sapevo Ma sua cacca No, la sapevo Ma la cacca No, la cacca Picciotti dai, si sa che è il primo Nobel nel 91 per la pace Aung San Suu Kyi Sì, che fa Dov'è il miliardo picciotti Eh, la banconota è un miliardo Facciamo vedere Il miliardo Prendi il miliardo Senta Presentatore di merda Che rolla le sigarette Sì Dov'è un miliardo Alla ricerca del miliardo perduto Ma sai che ce lo siamo fottuti prima Aspetta, deve essere Aspetta Mi avete fregato i soldi? C'è un piccolo incominio di tecnico Un miliardo Senti, ma ti stai facendo una canna? Sì Non si fanno queste cose Questa la mettiamo su YouTube Tutta Italia saprà che ti stai facendo una canna Non è una canna È peggio Pizzotti è sparito un miliardo Oh, ridatemi i soldi Ora voglio un miliardo È in tv, me lo afficcio pure Senti, se te lo scambiate A centomila lire Vabbè, l'accetto, dai Allora A centomila lire? Che cazzo è? Vabbè Su questa scena pietosa Che non abbiamo il miliardo Ci stacchiamo Addio Ciao Ciao Ciao